Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Doppietta Red Bull nel GP dell'Arabia Saudita, a Jedda vince Sergio Perez che era scattato dalla pole position. Il messicano precede Max Verstappen, in rimonta dall'ottava fila, che è leader del mondiale grazie al giro più veloce della gara. Fernando Alanzo ripete con la Aston Martin il terzo posto del GP del Bahrain. Male le Ferrari, mai in gara per il podio, sesto Carlos Sainz, settimo Charles Laclaire, dietro alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Perez vince il GP dell'Arabia Saudita, quinto successo in carriera, davanti a Verstappen che resta leader del mondiale grazie al punto bonus del giro veloce. segnato all'ultimo giro di gara. Alanzo è di nuovo terzo, centesimo podio della sua carriera, nonostante la minaccia di un reclamo Mercedes per la penalità pagata dallo spagnolo in regime di safety car. Lo spagnolo spinge a fondo per garantirsi almeno 5 secondi di vantaggio su Russell. Quinto Hamilton davanti alle due Ferrari. La classifica a coppie prosegue con le due alpine di Akane Gasly, ottavo e nono, mentre la battaglia al calor bianco, come il colore delle loro monoposto, tra Magnussen e Tsunoda per la decima posizione e l'ultimo punto iridato va al danese del Timas. Se il video è stato di tuo gradimento, lascia un bel like e iscriviti al canale, per noi è molto importante. Grazie e arrivederci al prossimo video.